Consigliere Marika Sabatina, stata appena eletta vicepresidente, ci dica quali saranno i suoi programmi, i suoi impegni relativi a questa carica? Io sono veramente lieta di ricoprire questa carica e sono contenta che la maggioranza abbia dato ancora una volta prova di essere unita e compatta, come è successo già in precedenza per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Consiglio. E spero, essendo nuova, essendo la mia prima esperienza, veramente ricoprire il ruolo del genere è veramente un onore, spero di poter dare il meglio e di poter fare questa esperienza, veramente viverla in pieno. Ripeto, sono contenta che la maggioranza dia ancora prova comunque di essere unita e speriamo di procedere in un cammino sempre migliore. Grazie.